Benvenuto su Heavy Metal Heaven. Oggi torniamo indietro di un paio d'anni quando sulla vecchia website ci occupavamo di un'eccellente one man band al debutto, con una ricerca tra atmosfera ed emozione. Folian è un progetto solista di David Stephen Filstra, polistrumentista statunitense, con altre pubblicazioni alle spalle. Blue Mirror è l'esordio in formato full-length per questa nuova dimensione artistica sperimentata da Filstra, nella quale possiamo ascoltarlo muoversi su uno stile improntato, sull'atmosfera e sull'intensità dei suoni proposti. L'unione delle chitarre distorte con un cantato struggente non è un mix difficile da incontrare nel post-metal al cui l'artista fa riferimento, ma l'utilizzo che ne fa il nostro è alquanto peculiare. Sembra infatti che nel processo produttivo che ha portato alla luce Blue Mirror sia stata data grande importanza al lavoro di perfezionamento di tutto ciò che circonda la musica di questo progetto solista. Nella ricerca di sonorità che potessero distinguersi, David Filstra riesce ad incastrare in modo interessante una serie di suoni ambientali e inserti di scene che hanno un ruolo importante nell'opera. La notevole profondità compositiva, donata da tutti i piccoli dettagli di cui l'artista dissemina questo atto primo del nuovo progetto solista, rendono ogni brano caratteristico ed estremamente curato, allontanando ogni rischio di riempitivi poco efficaci. In una tracklist che racconta le sue emozioni con lentezza e dolcezza e talvolta anche con un pizzico di aggressività, possiamo comprendere quanto per l'autore sia di vitale importanza dare forma e struttura alla sua interpretazione del metal in un modo che sia il più personale possibile. Già dai primi minuti traspare la volontà di regalare all'ascoltatore la propria visione musicale senza per questo condizionare la forma espressiva scelta. Follian è infatti un progetto chiaro stampo post metal che porta con sé un carico emotivo difficilmente ignorabile. Quest'ultimo si rivela la chiave di volta per un disco che probabilmente ha bisogno di uno sconto in più per essere assorbito appieno, ma che sicuramente merita l'attenzione di una grossa fetta di pubblico. Voto di Heavy Metal Heaven 90 su 100. Per oggi abbiamo concluso, se ti è piaciuta la recensione metti like, commentala e condividila. Puoi anche iscriverti al nostro canale e attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi video. Inoltre seguici sulle nostre fan page Facebook, Instagram e Pinterest, trovi link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta.